Il Titan o Titan, questo sottomarino che vi ricordo è stato immerso diversi giorni fa di tempo a 3.800 metri di profondità, è imploso, c'è stata la implosione. La conferma è arrivata di recente da parte della marina americana, la quale ci fa sapere e ci informa di questa situazione. Conseguentemente parlando all'implosione di questo sottomarino chiamato Titan o Titan, vi ricordo che tutti e cinque i membri dell'equipaggio sono morti, le cinque persone che erano a bordo sono morti, sono defunte, non ci sono più. E' una vicenda questa che ha delle incredibili, vi ricordo che i cinque si erano legati dentro al Titan o Titan per andare a osservare il relitto chiamato Titanic o Titanic. La voglia di osservarlo da vicino, la voglia di vederlo finalmente, era per loro una grande occasione, una grande voglia e di conseguenza hanno deciso di immergersi a 3.800 metri di profondità dove lì, vi ricordo che l'acqua è gelata, è molto fredda, non c'è neanche un barlume di luce, è nelle tenebre e le persone in questione hanno deciso di fare lo stesso, il viaggio in questione. Purtroppo non ce l'hanno fatta, l'ossigeno era già scarso e ci è passata quella implosione del sottomarino in questione. Ciao da Narrato Italy